E' sempre più tesa la situazione in Nicaragua dove agli studenti che chiedono le sue dimissioni il presidente Daniele Ortega risponde respingendo l'ipotesi di elezioni anticipate. Ieri in Nicaragua era la giornata nazionale dello studente e migliaia di giovani l'hanno celebrata sfilando per le vie di Managua, alzando al cielo gli zaini dei loro compagni uccisi negli ultimi mesi. Dallo scorso aprile le vittime delle violenze sono state quasi 400. Chiedono giustizia agli studenti nicaraguensi e chiedono le dimissioni del presidente Daniele Ortega, accusato di assomigliare sempre di più all'ex dittatore Anastasio Somoza che il giovane sandinista Ortega rovesciò 40 anni fa. Il suo tempo è esaurito, dice questo studente. La maggior parte delle persone chiedono le sue dimissioni, aggiunge, gli chiedono di fermare l'oppressione e di lasciare il potere. Ma il presidente non ha alcuna intenzione di dimettersi e lo ha ribadito anche ieri in un'intervista concessa ad un canale televisivo statunitense, al giornalista che gli chiedeva se, insieme alla moglie e sua principale collaboratrice, avesse preso in considerazione l'ipotesi di lasciare il potere per porre fine alle violenze che stanno devastando da mesi il suo paese. Daniele Ortega ha risposto negativamente, confermando che le prossime elezioni si terranno alla scadenza naturale del suo mandato nel 2021. Una decisione che non facilita il dialogo nazionale, che è appeso ad un filo. Si interrogano anche i Vescovi del Nicaragua, che sono stati finora i mediatori del difficile tentativo di conciliazione.